Per i due da te, arriva. Passato. 21, 31, distrutto. No, si fai, da te, parla. Se li prendiamo entrando facciamo viti bomba. Sì, viva la regola. 37, 38, 36. 21, vai, ovvio, 21, vai. Ah, ma comunque sei dall'altra parte della mappa. Ma perché non ti vedi in mappa io? Amore, ma io sono a boschetto, te l'ho anche pingato, mo. Amore, io ho pingato prima di te e sono scesa prima di te. Ma ho aperto la mappa e non c'era il ping. Amore, sono scesa prima di te. Oh, cazzo. Sei veramente a boschetto. Amore, sei crocevia e boschetto. Dobbiamo ritrovarci, dobbiamo sopravvivere. Morto uno. C, tu dobbiamo sopravvivere. Ho fatto questo qua a non sentirmi, raga. Questo sa. Aiuto. È lì. Ti piace, mi ricordo i vizi. Ti stanno faicando? No, non capisco. Vado ad aiutare Martina, ragazzi. Qua siamo sopravvissuti. Prendo la macchina, me ne vado. Vai Martina, pinghiamola. Via, 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 via. Bisogna scappare qua. Dobbiamo andare da lei. C'è Spider-Man. Un quad. Vai, prendiamo Spider-Man. Adesso me lo scopo. Andiamo, andiamo, ragazzi, andiamo. No, c'è, sta anche a progettiamolo. Era un nieder! Questo qui, effettivamente, ragazzi, era strano, perché come se sapessi da dove volessi entrare io. Quindi, infatti, secondo me, mi sembravano possibilità. Non sono sicura, però. Quindi l'obiettivo è quello di ritrovarci. Cioè, tu sei da una parte e da un'altra. È moto di Winter Fight a Greasy? Sì, sì, ho ucciso un best, mi ne sono andata e sto cercando di venire da te. Io ci sono il nico team che c'era da me a Croce. Eh, io c'erano un sacco di persone, ma... A me sono un team. Cleannappati, ora me ne vado. La soli è in altissimo. 32. 32. Vabbè. Casa. Eccoli, sono qua. 34, 34. 51, 34. Amore. Ah, 30 HP, forse, nemmeno. Ok, ha visto la scala. Faccio l'opad e lo pusho. Vai, occhia l'altro sopra. Non mi interessa. Sono in due da te. Arriva. Che cosa? 31, 31, 31. Distrutto. Eh, perché non si tratta. Arriva l'altro team, altro team, altro team. Questo è l'occhio in a pad, l'altro team. Vai. Prendo l'AIG, prendo l'AIG. Prima che lo... Prima che lo... Prendono loro. AIG mio. Ok, craccato qua. Uno. Ottanta. Ma cado? No, ma ho cecchino da dietro, amore mio. No, come? No, non ci credo. Te lo giuro, mo. No, le cecchino no, però, non ci vuole. Eh, no, mo. Cioè, l'ho distrutto con lì. Fatti questi, fatti entrambi di qua. Fatti tutti questi. Porti big, non è un play, ma vai. Giro la scala, sì. Salvi l'AIG, eh, prima che vengono. Ok, bene. Tanto sono full anch'io ormai. Treta, bianca, veramente. 34, 34. Dopo 34. Eh, no! Corso mia, amore! È un'altra, 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 un'altra. Non so, ma quella l'altra mi ha fatto male. È nel bush, attenta. È nel bush. Lo vedo, aspetta, lo hito. Dopo 36. Mi tiro un big. E ti do una mano. No, ma questa era una. Vuole farsi le coscette. 306 al tuo. Blu, però. 19, crackato, amore. Fatto, 100. Ti puscia l'altro. Dopo 36, crackato. Cazzo, l'altro team anche. Ho preso le splash, ho lasciato il barile. Io. Ok, c'è l'altro team, eh? Sì, sì, voglio arrivare. Quindi sono là, eccoli. Quanti barili sono? 19, uno. Quanti barili sono? È uno. L'altro l'ho fatto. Ti vedi? Hanno giampato? Ti hanno fatto la load. 20 di nuovo all'altro. L'altro è niger. Dopo 34. Ok, sono messi in home benissimo. Metto un pad, lo pad a loro. Da questo qua, amore. 19, crackato. Te l'ho crackato. L'altro indietro. Ha giampato, forse. Sì, sono andami da qua, ma. Arrivo. Un era crack, ma è quello là sul fondo. Crackato, il mio. Crackato ancora? Dopo di assoluto, ma. 22 white. Morto? Ok. Arriva un amico. Guarda me. Mi frutto, guarda. Ah, mi... Porca puttana. Gente davanti a me, gente davanti a me. Tipo di 23. Hold on, hold on. Ha la carabina mitica. Ok, sei più indietro di me. Cioè, sei più avanti. Distrutto. 20 white. Anche l'altro è bianco, anche l'altro è bianco. Esatto. Puscia l'altro. C'è. Raga, questi qua io ho fatto proprio il bunga bunga. Facciamo un'altra peperina, mo? Ti va? Sì, vai, vai, vai. Li vedo sparare... Sì, sì, a nord-ovest, andiamo. Fabo, vieni. Ok. Hanno aperto il fight. Gli scopriamo, gli altri. Stasionato. No, cado? Mio, mio, mio. Dovrei farmelo? Ah, cazzo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Era per dirti che... Ma non per la kill, perché ormai era una sfida personale. Uh, quante! Uh! C'è un uccello. Io, ragazzi, a me non te lo ho proprio toccato, perché tanto si vado via K a sto game. No, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Veramente forte. Ragazzi, ragazzi, fa dei danni porci, comunque. Dovrei usarlo ogni tanto un pochino di più. Solo che la carabina, anche se missi dei colpi, un colpo magari lo prendi perché la raffica. Questo deve essere preciso, cosa che io amo, però. Sì, no, 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 a distanza, ragazzi, c'è l'arma è fortissima. Anche close, perché close fa 33. Il problema è che ovviamente se missi è come il vecchio K. Eccolo. Che era molto più sicuro uno SCAR che una K, è normale. Però la K fa dei danni veramente assurdi. Sì, sono laggiù due. Devo cominciare a utilizzarlo, raga. Uno è qua sotto. No, c'è l'altro che mi ha visto, però. Eh, sono qua da me, guarda. Dopo 36. 19 blu, caccato, caccato da noi. Dobbiamo pushare questo nostro. Vai. Allora, vede l'amore. Arriva l'altro. Quello vuole fare free build. Dov'è? Non so ne fanno i miei camara. La sopra? Deve uscire da lì, fa troppo danno se è safe adesso. Farà, devi uscire. Cioè, te lo dico, zio, devi uscire. È sceso da dietro, mi sa. Eh, ma devo uscire. Muore di safe, sono. Fai una pe... Eh, a mare, a mare, a mare, a mare, dietro! 36? Al pesce dopo 36. Un ha trappato, eh. Eh, l'altro, infatti, là dietro. Ok, l'hanno ucciso. Facciamoci le pesce insieme e vieni qua. Eh, infatti. Apri. Faccio... Tu fai una pepe e le faccio le altre. Solo una. Ok. Vai. Qua sotto di noi muori. Il pesce l'avevo fatto male, però si sarà curato. Qua da me c'è uno. La sirena. Ce la fai? E' un haighe. Caccato il mio. 112. Full boxata. Scopata. Vattene il mio. Sì, sì, dai, dai. Spam ancora, coglione. Eh, sì, fai pa, dove vai? Destra, però, prima. Ok, bravo. Eh, sì, qua sotto. Sono... Questo è il team da due. Due, ok. Aspetta, amore, che carico un attimo. Sto carico... Sto stendendo i nike come una bastarda, ti giuro. Qua da me? Tutto mitraglietto, dirò. Morti il mio! Ok. Sto alzare qua da me. Sei sola, eh? Piuttosto aspettami se non te la senti. Sì, sì, ma sono qua. Arrivo. Carica, carica, ragazzi. Sono carichissima. Un coso di... Ficcato. Mi ha fatto male anche me? La fuccio di lato. Sotto? È in volo? È morto. Cazzo! Sei morta, amore. Mi servono pure. Vieni qua. Ah, ok. Mi scelgo. Hai alte pepper, per caso? Le hai finite? No, le ho finite. Mi sono curata al volo. Ok, va bene. Sto bush non mi piace, te lo dico. Ma sarà quinta. No, si spavano. Sto spavano. Se li prendiamo entrambi facciamo 20 bombe? Sì. Andiamo. Vieni. No, ho messo un muro in forzato. No, è niente finito. No, l'ho chiesa. Peccato, vado a fare 20 bombe di squadrina. Vabbè, è comunque dentro la fattoria. Il game è spritto. Qua sì. Non devi volare, però. 37? 38? 36? Non l'ho preso mentre volta. 21 white, doppia 21 white. Mamma, io ho fatto 4 body shot da tipo 120 totale. Eh, si sta curando. Va bene. Era il game split, amore? GG, GG, GG. E' carichissima, ragazzo. Oh, comunque, raga, la kappa. Vabbè, è come la kappa vecchia, ragazzo. Avete una mira proprio bella, precisa. Minchia, la kappa è tipo... Cioè, è assurdo. Fortissimo. Veramente forte. Bello, bello. Speciali! Speciali. Vedda caduosa. Bell game, bell game. Mi è piaciuto, mi è garbato. Delphi. E' un po' di 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 un po'. Bello. Mi è piaciuto, mi è veramente. Per vedo anche se... Come la condanna la kappa. Tornad. È inutile. Merbato. Come la condanna. Allora. Un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di... Grazie a tutti.